Fabrizio Di Stefano ha archiviato il pizzico di delusione per la composizione delle liste e ci si butta nella campagna elettorale perché bisogna cercare di sostenere, così ha ripetuto l'On. Di Stefano, il centro-destra non solo per il 4 marzo ma per tutte le sfide che si aprono. Ma è evidente che l'impegno sarà massimo per il 4 marzo per evitare che si faccia quello che poi è stato il motivo probabilmente della mia esclusione, cioè quando non dovesse arrivare i numeri un governo Forza Italia PD che io assolutamente non avrei votato e che io contesto, ma siccome sono convinto, chiudimelo e convinto il Presidente Berlusconi che si può vincere con il premio di maggioranza e quindi governare e trasformare un governo soltanto di centro-destra, ecco il motivo per cui vale la pena impegnarsi a prescindere dalla candidatura, perché subito dopo questo passaggio parte la grande rincorsa per la regione Abruzzo. E allora questi sono dei passaggi a step, primo step e il secondo step. In questo passaggio per me questo, come dovuto dire, si è dato un pit stop. Mi fermo in box, ricarico e ripartiamo per la regione Abruzzo, perché oggi più che mai abbiamo bisogno di scoltare pagine in regione, abbiamo bisogno e l'elezione matematica di D'Alfonso in Parlamento, perché è un suppozionale bloccato, ne accelera i tempi e quindi abbiamo bisogno di cambiare marcia in regione e cambiare marcia con un governo non soltanto che sappia governare e vincere, ma che sappia progettare, perché quello che manca oggi è un grande progetto di rilascio, non ripartono le occupazioni in Abruzzo, non aggancia neppure quella timida ripresa che c'è a livello nazionale, stiamo perdendo posizioni su tutti i settori, dalla sanità a fondi comunitari, siamo indietro, abbiamo bisogno di un grande progetto per ripartire. Questo grande progetto però deve essere fatto tra la gente e con la gente attraverso il coinvolgimento, cosa che magari in questa campagna è stata trascurata, il coinvolgimento delle persone, delle tante realtà anche civiche che in Abruzzo ci sono e che sono un valore aggiunto alla passione e all'attaccamento per questi territori. Dal 5 marzo inizia la partita per la regione, nel corso di questi anni in Parlamento Fabrizio Stefano ha mantenuto sempre un occhio vigile sulle emergenze nella regione, l'occupazione in primis, ma soprattutto forse il risveglio di quelle energie un po' sopite nei vari territori. Io credo che i territori siano stati trascurati, trascurati dalla regione, trascurati dalla politica, non voglio peccare le presunzioni, ma credo di essere stato l'unico parlamentare che ha curato i territori, che è stato sui territori, che li ha seguiti e lontano dal palazzo, forse se fossi stato più tempo a palazzo probabilmente avrei conquistato qualche simpatia nei tavoli che contano, ma non importa, preferisco avere le simpatie della gente che incontro quotidianamente e che ho incontrato per 5 anni quotidianamente in mezzo alle strade e alle piazze abruzzesi, piuttosto che qualche salotto romano. Quello che dico è che l'Abruzzo ha delle potenzialità enormi in termini economici, in termini turistici, in termini di passione di donne e di uomini che hanno un orgoglio, un'identità e una forza che bisogna mettere a sistema e che oggi la classe politica che governa la regione non è stata in grado di fare. Noi dobbiamo far sprigionare queste energie perché ridiamo lavoro, ridiamo occupazione, ridiamo prospettive di crescita dell'Abruzzo, ci sono, ma ci vuole un progetto politico, ci vuole un programma vero fatto di tempi e obiettivi. Quello che è mancato, la regione è facile, è stata fin troppo facile, un po' facilona direi, facilitando un po' di amici e penalizzando il territorio e penalizzando l'Abruzzo della sua interezza. Perfetto, grazie.